salve a tutti franzo al vostro supercorris eccoci qua ragazzi seconda missione del nostro call of duty amsterdam torna il nostro capitano price fuggino di benji price scaricano qualcosa su una ghiatta ai 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 ok ci sono delle pattuglie al satan vai ragazzi come al solito iscrivetevi a questo e al primo canale supercorris 84 lasciate un like seguitemi sui miei social sul canale telecom delle offerte supercorris offerte amazon dove appena sarà possibile metteremo questo gioco in offerta ma sicuramente se non è in offerta subito al black friday lo troverete in iper offerta c'è fruit rub c'è twitch e c'è il mio canale ufficiale supercorris 84 di telegram per le news e anteprimi sondaggi ghiotti con cui vi chiedo ogni giorno cosa volete vedere sul primo pontile ce n'è uno meglio non lasciare nemici in vita uccidili in silenzio avviciniamoci alla chiatta al lavoro non lasciare nemici in silenzio avviciniamoci alla chiatta al lavoro ok visto oi 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 gommona di pattuglia ragazzi quindi che mi fa? ma la gialla è qua Certo, so bene. E' rimasto uno, finiscilo. Ripulisci tutti i moli, uno a uno. Cazzo, finisce pure il fiato. Non l'avevo visto, ragazzi. Mi stanno sparando. Ma se può salire sopra, ma a che parte? No, non ce la faremo. Non c'è un cazzo di armi? Certo, so bene. Alla grande, capo. No, non c'è un cazzo. 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 Alla grande, capo. Sono sopra. Capitano. Falci piano. Capitano. Capitano. Non c'è un cazzo. Capitano. Non c'è un cazzo. Ti vedono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, mi manca poco Uno ucciso Bel lavoro, sergente Arrivo da te, sergente Che roba la grafica qua Ecco il nostro prize, Benji È chiuso Seguimi Voglio scaperare Bene, tenetemi aggiornata Senti Spagnolo Pare di sì Ci sei? Pronto Oh no, cazzo e bordello Guarda La Salmas Un cartello messicano Che fanno qui? Laswell L'Iran usa un cartello per il trasporto Dammi un nome, Gian La Salmas Tassan collabora con i Narcos Aspetta I zozzoni No, Gian Ma scorta la munizione Sempre del cartello Aspetta la munizione Qua va te sta Cos'è se lumina? Maldita! E' putta! Libero. Il suo telefono. Ah, stavo su Whatsapp. Ci andiamo a prendere il caffè? Che cosa succede? Ah, questa è la parte più bella, che ho visto pure in tutti i gameplay. Ah, bellissimo. Guardate che cazzi grafica, ragazzi. Qua è veramente sontuoso il gioco. E dà tutta la sua potenza. Stiamo arrivando. Serighe. Vereno? Non letale. Li metterà a K.O. Merda della CIA. Benvenuto nel mio mondo. Stendi le guardie, così arriveremo al nostro amico. Lei? Estrazione. Dimmi quando. Dimmi dove e quando. 06, rapporto? Parlano di orari. Vai ragazzi, guardate i riflessi sull'asfalto. Tutto, è pazzesco. Tagli addosso. Ci servono informazioni su carico e destinazione. Chiaramente, ripeto, questo è sempre un gioco che... ...va verso dei binari. Però è stupendo, eh. Guardate che roba. Ah, è bello, eh. Questa è veramente una grafica alto livello. Sto stupendo. Due del cartello. Alla fine del pote. Non devono vederti armato. Vediamo se si separano. Ok, uno si allontana. Viene verso di me. Lo seguo. Io prendo quello al ponte. In movimento. Calmo, Mico. Hai alzato il gomito, eh. Avanti. Guardi a terra. Ponte libero. Perfetto. Ora raggiungimi. Watcher 1. Il carro è umano. Un pezzo grosso. Destinazione Stati Uniti. Chi, John? Cazzo di grafica voglio. Che gioco a San Zayani. Merda. Allora in Messico. Siamo in tempo per fermarlo. Prendiamo il nostro amico del cartello e facciamoci dire tutto. Se a San porta un missile in tiro degli Stati Uniti sarà un massacro. Che si fa? È circondato da guardie. Non abbiamo controllato l'area. Forse ci sono altre guardie. Non c'è tempo per setacciare l'area. Serve un diversivo. Io ho qualcosa. Gas, vediamoci al bar. Caballero. Gas, sei troppo vicino al bersaglio. Allontanati. Prendi. Che cazzo sarebbe? Il detersivo. La nata esca. Funzionerà. Torna dall'Aswell. Entriamo in azione. E' bello, ragazzi. I riflessi sull'asfalto. Cioè, su... Troppo bello. Nel vicolo. Appena scoppierà il panico, il cartello corporalista. E qui entro in gioco io. Con te, Gas. Tre secondi. Gas, arrivano le guardie. Io ne prendo una, tu l'altra. Ok. Ora, sergente. Guardia a terra. Ti raggiungo, capitano. Intervengo. Tappati la bocca, seguimi. Watcher 1, obiettivo sicuro. Stiamo arrivando. Ricevuto. Cartello, dietro di noi. Ottimi, sergente. Watcher 1, c'è attacco. Trenimi, direzione su. Ricevuto, arrivo. Attenzione. Sta arrivando la polizia. Tre minuti. Libero. Gas, usa la siringa. La siringa. Tiralo su. Watcher. Andiamo. Ricevuto, arrivo. Dentro. Ottimo lavoro. Grazie. Scopriamo dove portano Hassan e intercettiamolo. Lo sveglieremo. Ci dirà tutto. Sicuri che parlerà? Ah. So essere molto persuasiva. Mmm. Colonnello Vargas. Che ha posizione Laswell? Non mi aspettavo queste formalità. Allora la faccenda è seria. Noe, mi serve il tuo aiuto, Alejandro. Parla. Il cartello Lasalmas vuole portare un terrorista iraniano oltre il confine. Laswell, i terroristi non passano dal confine sud. Lo sappiamo e lo sanno anche loro. Ecco perché ci proveranno. Devi assolutamente impedirlo. Chi è il bersaglio? Il maggiore Hassan Zayani. Capito. Quando? Stanotte. Mi sono collegata a un drone di sorveglianza. C'è parecchio movimento laggiù. I migranti sono in acqua. La polizia di frontiere interverrà. In arco scusano i migranti come esca. Potrebbero muovere Hassan ora. Ricevuto. Dov'è l'FBI? Arriverà tra un'ora. Abbiamo solo voi. Un attimo. Rodolfo, i migranti sono un'esca. Il bersaglio è in movimento. Hanno attraversato il fiume con una barca. Su, cerchiamolo. D'accordo. Ma noi lo vedremo nel prossimo episodio di Call of Duty. Ricevuto. Motherborn for 2. Ci attraversa il confine. Ciao aglio. Ciao aglio.